Andiamo a giocare a Bologna contro una squadra che si riaffaccia quest'anno al campionato di Serie A ma che porta dietro un blasone che tutti conosciamo. Una squadra costruita con giocatori di grandissimo livello, 4 quinti del quintetto, sono giocatori di Eurolega. Penso a parte Milano, poche altre possono permetterselo. Una squadra, secondo me, costruita con la volontà e la possibilità di arrivare tra le primissime posizioni di questo campionato. Una squadra che sta facendo bene, con un pubblico molto caldo e correttissimo come è sempre stato. Quindi ci sono tutti gli ingredienti per una grande partita. Noi dal canto nostro sappiamo che giocare fuori casa non è mai facile. Sono anche però, tra virgolette, curioso di vedere quale sarà nei 40 minuti il nostro modo di stare in campo contro, ripeto, una squadra di questo livello, sapendo poi che arrivando noi, che in questa stagione siamo i campioni d'Italia, tutti moltiplicano sempre le forze. Dall'altra parte siamo riusciti ad approfittare di questi due giorni di allenamento per rimettere dentro Cerella, che ha fatto ieri una prima parte di allenamento con noi. Quindi il nostro obiettivo è riuscire a vedere se oggi farà un'altra parte, ma sarà sicuramente nei 12. E abbiamo cercato di lavorare un po' al completo per affrontare questa partita, che credo sarà una partita molto fisica, molto dura, e quindi anche un po' di curiosità.